Musica Eccoci ben ritrovati in questa seconda parte di Angoli, siamo nuovamente in compagnia del dottor Giuseppe Perone, responsabile dell'unità ospedaliera di oculistica di Villa Prica a Como. Chiaramente buonasera, bentornato dottore. Buonasera a te e buonasera ai nostri ascoltatori. Dunque, oggi parliamo di chirurgia refrattiva, un nome che può spaventare. Spieghiamo, tranquillizziamo subito i nostri telespettatori, spieghiamo che cos'è. Ma oggi parliamo di un argomento a me caro, insegno questa materia all'Università di Pavia del 1996 ed è stata la prima cattedra in Italia di chirurgia refrattiva. Chirurgia refrattiva è una branca dell'oculistica che si dedica a eliminare gli occhiali ai nostri pazienti. Le procedure chirurgiche sono molteplici e l'innovazione tecnologica negli ultimi anni ha radicalmente cambiato gli approcci con il paziente. Quindi è recente come tipo di... Gli arbori della chirurgia refrattiva vanno fatti risalire alla fine dell'Ottocento. Il boom della chirurgia refrattiva è avvenuto negli anni 70 con le famose incisioni radiali fatte in Russia da Fiedorov e dalla sua scuola. Il boom notevole è avvenuto alla fine degli anni 80 con l'avvento del laser decimeri messo a punto da Trocler e da Shirivasan negli Stati Uniti. Che quindi che cosa faceva? Come tipo di operazione? Era invasiva? Ma l'intervento ultimo messo a punto grazie alla tecnologia dei laser decimeri è un intervento decisamente non invasivo. Ed è un intervento che decisamente ha cambiato la vita a migliaia di pazienti con due procedure diverse, se uno è la PRK e uno è la LASIK, che poi magari vedremo... Che nello specifico. Ecco, questo è un video che illustra in breve come un laser decimeri è in grado di asportare tessuto dalla cornea con una precisione micrometrica. Vale a dire ogni spot del laser è in grado di portare via 0,25 micron dalla cornea. In questo modo noi possiamo modellare la cornea, che è il principale obiettivo del nostro occhio, al nostro piacimento. Quindi lì dove il paziente ha una miopia possiamo appiattire la parte centrale della cornea e correggere la miopia. Lì dove il paziente è ipermetrope e quindi possiamo con il laser decimeri agire in periferia sulla cornea, incurvare la cornea e quindi eliminare il vizio refrattivo. Quindi si rivolge a vari tipi di patologie. Noi possiamo correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia, praticamente tutti i vizi refrattivi del nostro occhio. E quindi possiamo decisamente dare al paziente un visus ottimale. Quindi abbiamo parlato del laser a decimeri. Laser a decimeri, sì. Si è evoluta ancora poi la tecnologia in questo senso? I laser a decimeri arrivano sul mercato all'inizio degli anni Ottanta. Nell'Ottantatré ci fu la prima pubblicazione di Trogler e Shrivasan. Nell'Ottantasette, Ottantotto hanno avuto una decisa diffusione nel mondo, con parecchie impianti installate in diverse strutture importanti. In Italia sono arrivati negli inizi degli anni 90 e devo dire che noi siamo stati pionieri in questo settore. Mi ricordo il primo laser che è arrivato nella nostra struttura fu una festa. Un grosso boom ha avuto il laser a decimeri, poi verso la fine degli anni 90, con l'avvento di una nuova tecnologia che si chiamava Eye Tracker. Eye Tracker era una tecnologia che permetteva al laser, al fascio laser, di seguire l'occhio nei suoi movimenti. Quindi il paziente poteva anche muovere l'occhio durante il trattamento che non avrebbe avuto nessun tipo di conseguenza. Nel 2005, altra tecnologia, il laser a fento secondi, che si sostituiva al microcheratomo, che eseguiva il taglio sulla cornea nella tecnica LASIC. Quindi di innovazione ce ne sono state. Ce ne sono state. Ma ancora ce ne sono. Quindi adesso qual è quella più in uso, soprattutto nella vostra struttura? Le tecniche che sono il gold standard oggi sono la PRK per le miopie, ipermetropie, astigmatismi ridotti. Cioè lì dove abbiamo una miopia di meno 1, meno 2, andiamo in PRK, che è una tecnica molto semplice, vale a dire rimozione dell'epitelio, dello strato più superficiale della cornea, impatto laser, lente a contatto, il paziente dopo 4-5 giorni vede già bene. Con laser di ultima generazione. Attenzione, non fidatevi mai di laser presi a noleggio. Cioè sinceratevi che i professionisti abbiano dei laser propri. Anche perché per quanto possa essersi voluta la tecnologia stiamo parlando comunque di un'operazione, quindi bisogna mettersi nelle mani. Sì, quindi non andiamo nel banale, perché banalizzare queste tecniche ha fatto sì che al fine degli anni 90, inizio 2000, i pazienti si allontanassero da questa chirurgia, perché di problematiche ne sono insorte tante. Quindi cautela. Ecco, vedete un'animazione invece della LASIK, come nella sua attuale interpretazione, vale a dire col fento secondi. Un laser taglia la cornea con una precisione micrometrica. Questo strato esterno. Micrometrica. Qui abbiamo un flap di 9 mm di diametro e di uno spessore di 100 micron. Sotto il flap, vale a dire sotto il taglio del laser a fento secondi, eseguiamo il laser a decimeri per correggere miopia elevata, astigmatismo elevato e ipermetropia elevata. Quindi, ricapitolando, PRK nei vizi refrattivi banali, LASIK nei vizi refrattivi già più importanti, e lì dove non riusciamo con la tecnica LASIK a correggere miopie veramente importanti, quando siamo di fronte al paziente con miopie di meno 8, meno 9, meno 15, meno 20, meno 36, ho operato anche i pazienti con miopie da meno 36, si ricorre all'impianto di una lente. Che è un ulteriore passo. Una lente intraoculare, che è una tecnica veramente meravigliosa. Questa è la LASIK, vedete, eseguita con il fento secondi, vedete, si solleva la lamella tagliata, il flap tagliato con il laser, si esegue il laser a decimeri, e il gioco è fatto. Questo è un paziente che dopo 4 ore vede già bene e può ritornare alla vita di tutti i giorni. Quindi, diciamo, il tipo di fastidio dovuto all'operazione è minimo, nel senso che... Nella LASIK sì, dura solo 4-6 ore, nella PRK è più duraturo, anche 3-4 giorni, nell'impianto di lente, che si usa solo per le miopie elevatissime, è praticamente inesistente. Il paziente da subito vede bene. Magari possiamo vedere un'animazione dell'impianto di lente, eccola qui. È un'animazione, questa non è un video, perché l'intervento è un tantino più cruento. Anche qui l'intervento viene fatto in anestesia topica, vale a dire solo in stilazione di collirio. Il paziente dopo 4-5 ore già vede benissimo. Queste sono lenti di ultima tecnologia. Queste lenti, questa procedura chirurgica, l'ha fatta risalire al 1950-51 e uno dei maggiori interpreti è stato proprio un italiano, Strampelli. Ecco, una delle domande classiche, quando si parla di chirurgia refrattiva, è se poi è veramente definitiva come tipo di soluzione. La chirurgia refrattiva, se ben eseguita e se ben interpretata, è definitiva. Lì dove andiamo a eseguire però dei casi estremi, cioè un trattamento di una miopia elevata con la tecnica PRK o la tecnica LASIC, possiamo al corso degli anni avere delle regressioni. Quindi un ritorno della miopia modesto, non è mai un ritorno totale. Sono stati descritti in letteratura casi eccezionali al mondo, ma pochissimi casi, di ritorno di miopia, ripristo della miopia anche di due, tre diottrie. Però bisogna sempre valutare come è stato eseguito l'intervento, quali erano le condizioni anatomiche del paziente. E poi non dimentichiamo un piccolo particolare, soprattutto nelle donne. In corrispondenza di una gravidanza, di un allattamento, una donna può avere un incremento della sua miopia. Quindi se noi abbiamo trattato in una ragazza di 22-23 anni una miopia di meno 6 e dopo 5-6 anni questa ragazza ha una gravidanza, può venire fuori ancora una miopia di una diottrie. Ma questo non vuol dire che l'intervento è stato un fallimento. Quindi bisogna comunque, prima di tutto, fare le giuste valutazioni preoperatorie. Diciamo che il nemico peggiore della chirurgia refrattiva, che è una serie di tecniche chirurgiche che io adoro. Il nemico peggiore è stata una cattiva interpretazione da parte dei professionisti, perché la chirurgia refrattiva negli anni 90 è stata aggredita da professionisti, molto spesso con poche conoscenze, poche competenze, poche informazioni sulla tecnologia. Perché questa chirurgia è una chirurgia che dipende dalla tecnologia, ma la tecnologia deve dipendere da noi. Quindi il professionista deve conoscere le tecnologie che ha a disposizione. E quindi adattarle poi chiaramente al singolo paziente in base alle necessità. Ma è fondamentale. Guardi, stamattina abbiamo provato per la prima volta al mondo a operare senza guardare in un microscopio, ma guardando in un televisore, con il famoso 3D che si usa tanto. È stata un'esperienza meravigliosa, ma non possiamo dire che questo è già il gold standard. Bisogna continuare nella ricerca, anche se stamattina eravamo tutti entusiasti. Lei capisce? Per la prima volta al mondo eseguire della chirurgia dell'occhio senza più utilizzare il microscopio operatorio rappresenta un'innovazione apocale. È chiaro che poi dopo va perfezionata negli anni. E noi ci divertiamo sempre nel rincorso della tecnologia. A essere pionieri in questo senso. Con la tecnologia noi siamo stati sempre, sempre pionieri. A livello nazionale. Quando noi parlavamo di laser adecimari, pochi in Italia parlavano di laser adecimari. Quando noi utilizzavamo il fento secondi. Ancora meno. Il 90% degli oculisti in Italia non sapevano neanche cos'è il fento secondi. E così per la fento cataratta con il laser adecimari. E stamattina ci siamo tolti un'altra piccola soddisfazione. Quella di operare per la prima volta al mondo in 3D. È stata una cosa meravigliosa. È una bella sensazione, una bella soddisfazione. Siamo quasi in chiusura. Poi ricordo ai nostri telespettatori che la settimana prossima saremo ancora in compagnia del dottor Perone. Ma volevo chiederle un ultimo consiglio a chi decide di avvicinarsi a questo tipo di chirurgia. Non fidatevi degli spot pubblicitari, non fidatevi di quello che appare su internet, fidatevi delle casistiche. Quindi dei numeri all'espante. Dei numeri dei chirurghi. Quanti interventi hanno fatto? Quando hanno iniziato? Non fidatevi di quei professionisti che prendono il paziente e lo portano dall'altra parte del mondo per andare a noleggiare un laser adecimari di cui nessuno conosce l'affidabilità. I laser adecimari sono delle Ferrari che vanno tenuti alla perfezione. Lì dove non sono assettati in modo ottimale combinano dei disastri. Veramente dei disastri. Anche da parte del paziente chiaramente informarsi bene prima poi di rivolgersi a uno specialista per scegliere lo specialista appropriato. Ringraziamo anche questa volta il dottor Giuseppe Perone per essere stato con noi e averci illustrato queste nuove tecniche e questa tecnologia ormai sempre più all'avanguardia. diamo appuntamento, lo ricordiamo, la prossima settimana per parlare ancora di salute dei nostri occhi. Noi per oggi abbiamo finito però il tempo a nostra disposizione quindi lasciamo la linea come sempre ai colleghi del telegiornale e ci ritroviamo qui domani alle 19 per una nuova puntata di Angoli. Buona serata. Ciao a tutti. Grazie a tutti